Quali sono le caratteristiche della San Pier Damiano? San Pier Damiano ospita una struttura polispecialistica strutturata in due dipartimenti, un dipartimento chirurgico e un dipartimento medico. Nel dipartimento chirurgico abbiamo diverse specialità chirurgiche, la principale è l'ortopedia, ma svolge un ruolo importante anche la chirurgia generale, l'ottorino-aringoiatria e l'oculistica. Poi ci sono altre specialità come l'urologia e la ginecologia. Nel dipartimento medico svolgono un ruolo prevalente l'attività medica di medicina interna e di medicina respiratoria. Inoltre c'è un comparto importante di riabilitazione. Quali novità da un anno all'altro? Quest'anno, come abbiamo detto l'anno scorso, presenteremo un'innovazione tecnologica. La struttura si è contraddistinta in questi anni per un'innovazione sia strutturale che tecnologica, perché negli ultimi quattro anni la struttura è stata rivista completamente sotto il profilo strutturale e tecnologico. E quest'anno parleremo di tumore alla prostata perché abbiamo inserito una nuova tecnologia, un ecografo che permette di eseguire delle biopsie ecoguidate acquisendo le immagini direttamente dalla risonanza magnetica. Quale significato ha per Confindustria organizzare questo Festival dell'Industria e dei Valori di Impresa? Indubbiamente per Confindustria Romagna, in particolare a meno di un anno dalla creazione della nuova associazione, è un momento per celebrare i propri iscritti, quindi le aziende, e soprattutto per restituire al territorio di cui queste aziende fanno parte un significato di legame, di importanza con i propri dipendenti, con le famiglie dei propri dipendenti e aprire le porte alle eccellenze delle aziende come quelle che ci ospita oggi per dimostrare a tutti, a tutta la comunità, a tutte le famiglie e ai media i progressi fatti dalle nostre eccellenze che anche in tema di aziende industriali e non solo manufatturiere sono sicuramente ai vertici in Italia e in Europa.